Ciao, sono Adriana Busi, un'allevatrice qui della zona, ho un allevamento a Porgo San Siro. Ma sono stata anche un'attrice, per dici anni ho lavorato a teatro incontro insieme a Mimmo Sorrentino e oggi sono qui perché voglio invitarvi a vedere un reality nuovo e bellissimo. Si chiama Wild Teens, contadini in erba, è trasmesso in streaming su Discovery Class e è un'avventura particolare. Abbiamo preso 12 ragazzi di città e li abbiamo sfidati a diventare dei contadini. Per 30 giorni io insieme a un fattore di nome Andrea Garpelli e a un cuoco che si chiama Emilio abbiamo insegnato a questi ragazzi a vivere in campagna. Come se la saranno andavate? Dovete scoprirlo e vi assicuro che vi divertirete molto perché questi ragazzi che sembrano svogliati in realtà hanno delle qualità incredibili e vi stupiranno. Seguiteci su Discovery Plus dal 3 di novembre in streaming.